salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video di vrc 10 continuiamo il nostro rally di spagna che finora si sta arrivando veramente ottimo però insomma c'è ancora l'altra metà del rally da fare quindi ancora insomma non cattiamo vittoria andiamoci a modificare intanto il set di gomme perché abbiamo comunque due strano che si sono consumate in maniera insomma in diagonale comunque andiamoci a mettere le altre morbide allora aspettate no però le morbide ne ho soltanto due treni nuovi quindi niente montiamo le dure via così tanto va benissimo comunque uguale quindi due tappe di cui una un'altra in notturna insomma vediamo di far bene come siamo riusciti a fare nell'ultimo appuntamento tappa qua 14 km insomma quindi non proprio cortissima e dovremo appunto prestare attenzione a salvaguardare i nostri fari ok iniziamo qua è sicuramente l'unione di più tappe perché già vedo come disegno insomma parti che abbiamo già fatto quindi 14 km sono abbastanza ok allora iniziamo la tappa 14 km e 46 insomma bella lunghietta malgrado piove pure le provisioni della tappa davvero minaccioso 0% le piogge e qua piove già direttamente quindi mi sa che devo andare a licenziare il nostro riparto meteo perché insomma c'è qualche problemino mi dice che è nuvoloso sì ma con probabilità 0% di pioggia e poi mi ritrovo che c'è acquazzoni qua attenzione perché qui la macchina va veramente a scivolare tanto in sinistra 4 stringi bene in sinistra 3 media in destra piena ok in sinistra 4 chiude e destra 3 lunga chi è in sinistra piena pieni destra 5 corta e sinistra piena attenzione 30 ok sinistra 6 corta all'incrocio resta 5 le gomme occhio le gomme sto bene la macchina un po' meno scivolare cazzo scivola bestia dicevo le gomme morbide ci avrebbero aiutato secondo me perché hanno comunque una maggiore aderenza ma purtroppo avevamo soltanto due due gomme nuove l'altra erano usate quindi comunque ci dovevano servire per due tappe quelle già usate insomma sarebbe state un bel po' consumate perché qua sono 15 km quasi quindi qua se riusciamo a recuperare è bella lunga quindi il tempo diciamo ci sarà per riprenderci ok e poi il pezzo tostarello bello ma tostarello qua e sinistra 1 corta in destra 1 media in sinistra 1 oh e destra 4 corta in sinistra 3 e destra piena sinistra 2 ok e destra 2 media in sinistra destra 3 ah occhio 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 in sinistra 2 niente non vale proprio in sinistra 2 in destra 3 io che botta in destra sinistra 3 tieni destra 3 ho guadagnato tanto ma abbiamo preso una botta frontale paurosa in sinistra 4 cento ehi via ora è così i cari ci sono ancora e destra 5 controllo sempre che ci siano perché insomma la prossima tappa è notturna e in sinistra 5 chiude in destra 5 speriamo rimontino i faretti supplementari perché se l'avessimo avuti anche nelle altre occasioni sarebbe sarebbe stato male dai monte in sinistra 4 chiude in destra 5 in sinistra 4 chiude e destra 4 chiude in sinistra 4 e in destra 4 in sinistra 5 e destra 5 e sinistra 4 corta e destra 4 media chiude 30 l'abbiamo guadagnato ancora ma siamo ancora in ritardo piano piano abbiamo rosicchiato qualcosina l'importante è non perdere poi non è che dobbiamo necessariamente vincere tutte ma essendo comunque ancora bella lunga sinistra 6 chiude in destra 5 ancora speranza sia di peggiorarla che di migliorarla ovviamente attenzione stagione in secca sinistra taglia in sinistra 4 in sinistra 4 in sinistra 4 tieni destra 5 media chiude riuscite addirittura riuscite addirittura a migliorarci adesso eh ho fatto bene l'ultimo tratto ma ancora teniamo alta la concentrazione perché qui è un attimo bisogna combattere con col meteo con la macchina con il tempo occhio sinistra 5 in destra 1 media incrocio tieni duro e destra 4 chiude in destra 4 ok sinistra 4 chiude in destra 5 chiude in destra piena 80 attenzione tornante sinistro taglia poco 50 poi vediamo così qua abbiamo perso qualcosina però eh in secca destra apre destra piena in sinistra piena destra piena in sinistra piena mazza addirittura ha guadagnato pensavo avessimo fatto un altro peggio insomma ma ottimo così un po' per noi pesante tornante destro sinistra 3 corta in destra 3 chiude ok proprio ottimale però in sinistra 2 e destra 3 stringi in sinistra 2 media e destra 3 apre destra 3 in sinistra 2 in sinistra 3 chiude 80 in sinistra 2 lentissime eh vediamo poi come sempre però alla fine il frenometra cosa dirà però molto molto lento insomma veramente grossi problemi a farla Palla curvare Devo Quasi dare di Di frenare Guardate che Rido Ok Ah buono 5 secondi Ho tagliato un casino Non sono solo io ad avere Difficoltà Passa che patta col guante Questa è veramente tosta È tutto un destra, sinistra, destra, sinistra Veramente molto Molto impegnativa Curvone Lunga Sinistra E qua E' il secondo Cerco di entrare sempre dopo il primo Invece no E' dopo il secondo Fai altro pezzo di tappa Dovremmo essere nelle Nelle battute finali Mancano ancora 3 chilometri Quindi occhio Sinistra 4 In destra 4 In destra 4 chiude In sinistra 5 media Io ne Uh Ho visto che era un po' troppo lunghetti E eravamo arrivati E destra 4 corta In sinistra 4 chiude In destra 4 taglia poco Sì Attenzione Freno pesante Senza destra Non chiare Abbiamo perso 2 secondi E sinistra 3 corta In destra 4 Attenzione Frena Incrocio Senza destra Cazzo Vediamo qua se riusciamo a scelto qua Ottimo Ottimo Eh dai Non vanifichiamo tutto Negli ultimi Istanti Sinistra 3 corta E sinistra 3 corta 50 Restra 3 taglia poco 30 Su cima Sinistra 6 Stringe Pericolo Chiude 50 Su cima Destra 6 Chiude In sinistra 4 corta 30 Acchio 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 Uh Che botta Gomma forata Ma Insomma Che botta Gomma forata Tutte e due dietro Tutte e due dietro E tosta Sostituisci le entrambe Come facciamo Una Sì ma due Dietro Ma non possibile Sì Eh 2 minuti e 20 Eh questa è tosta Eh questa è una Botta bella tosta Anche per la classifica finale Bannazione Sinistra 3 chiude Stringi E destra 2 Taglia poco 30 Ovviamente stiamo a svantaggio Ora Adesso 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 Uh Per finire Le piove Le luci ci sono Ma Speranno Che si vedano Bene Poi Nella Nella tappa In sinistra 6 Chiude 5 50 Destra 5 In sinistra 6 Corta Apre In sinistra 3 Media In destra 4 Taglia In sinistra 3 Non tagliare E destra 2 Chiude Ehi In sinistra 4 Corta In sinistra 3 Corta Da dai Ultimi 600 metri Purtroppo Eh Abbiamo Manificato tutto Con Con Quell'incidente Che ci ha costretto A cambiare Entrambe Le Le gomme Quindi Sarà anche Difficile Nel caso In cui Abbiamo una furatura Nella prossima tappa Quindi Bisogna sperare Ok Finiamo con 13 minuti Ultimi ovviamente Perché Abbiamo anche 2 minuti e 20 Di svantaggio Quindi Finiamo ultimi Brutta Brutta borta Perché caliamo Anche di molto In classifica Generale Avevamo Un bel po' D'immagine 55 secondi E siamo finiti Sotto Vabbè Dai Non disperiamo Ragazzi Perché Insomma Potrebbe andar bene Ora Altra tappa In notturna Altri 5 Camera del 74 Cerchiamo Ovviamente Di portarcela A casa Dobbiamo Per forza Portarcela A casa Perché Se no Accumuliamo Troppo svantaggio E Le tappe Sono Sono quasi Finite Quindi Per forse Le cose Dobbiamo Fare bene Ok Faretti Aggiuntivi Che ci sono Ok Perfetto Allora Per quanto riguarda Le gomme Niente Teniamo Questa Insomma Le altre In teoria Sono bucate Quindi Non possiamo Farci assolutamente Niente Dobbiamo Sperare Di non Bucare Se avete Incazza Però Scusi Funziona Solo un lato Di Parca Niente Funziona Solo un faro Praticamente Sì L'allero E niente Lo so Ma io Non ci vedo Laggiù Scusi Capito Che Via pure In giro Mortashi In destra Quattro Curta In sinistra Uno Sessione Sì No E No È impossibile Con un solo Faro Già E tosta Con due Pensavo Uno Sì Oh Ragazzi Aspettate un attimo Concedetemi un Un riavvio Eh Sarà tosta Sarà tosta Mi devo basare Non so con cosa Più che altro Perché come vai Niente Torna indietro Facciamo presto Riprendiamo Facciamo presto Vale fretta È da una festa Che ti fa In sinistra Quattro Sessione Sarà Veramente Difficile Per ritenere Un certo Sì Possibile E niente Ragazzi Dobbiamo rinunciare Dai Che peccato Dovremmo riprovarci presto E niente Anche questo Via Dai Altri 30 minuti Che si aggiungono Andiamo in fondo Alla classifica E anche questo Lo buttiamo Dovevo cercare Di fare qualcosa Con queste tappe In notturna Perché altrimenti È un casino A parte Vabbè 14 chilometri Di tappa Precedente Ovviamente Non c'è tante Lo dovevi fare Era impossibile Che non Non lo facevamo Non lo facevamo Insomma Ok Riportiamo la macchina A riparazione Ripariamo Irriparabile Tanto Tecnicamente Soltanto La prova speciale È in notturna E possiamo Insomma Cercare Di Di fare bene Allora Per quanto riguarda No Montami le gomme Da Gomme dure Che lascia perdere Quelle da Quelle morbide Addirittura Quindi Altre due tappe Una sotto La pioggia Quanto pare Anche se pioveva Pure quando ci diceva Che non lo avrebbe fatto Quindi tecnicamente Insomma Dovrebbe piove E l'altra Per fortuna C'è lo sereno Sono due tappe Che Insomma Per quanto riusciamo Magari a Ricuperare qualcosina Purtroppo ormai Insomma Ci abbiamo 30 minuti Di penalità E così Finisce Peccato Peccato Devo Come detto Cercare di fare Qualcosa Per quanto riguarda Queste tappe notturne Ma insomma Più di così C'è poco da fare Prestare maggiore attenzione Nelle precedenti Nella tappa precedente In modo da fare Meno danni possibili Ai fari E cercare appunto Di Disperare In questo caso Avevamo soltanto Un faro funzionante Ma insomma Una pista In cui Tutte curve Ad essere sinistra L'asfalto E già in nero De suo Quindi Veramente Non si vedeva Assolutamente niente Peccato Peccato Vabbè Vediamo Vediamo poi Come fare Nelle prossime Due tappe Io intanto Ragazzi Vi ringrazio Se siete arrivati Fino in fondo Vi invito Se fa piacere Lasciarmi Un mi piace Un commentino E iscrivervi al canale Se non l'avete fatto In descrizione Trovate link A tutti i social network E in alto a destra Lei che vi riporta Alla per lista del titolo Nel caso in cui Avete saltato Qualche appuntamento Io di nuovo Vi ringrazio Vi do appuntamento Al prossimo video Ciao 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 ciao